Ciao, oggi scopriamo 10 cose più una che forse non sai su Suzuki Jimi. 1. Anima motociclistica. Il Jimi nasce con un motore motociclistico a due tempi da 359 cm3 e 25 cavalli di potenza. Al suo debutto nel 1970 fu subito un successo. 2. Design iconico. Il Jimi celebra ogni suo antenato. I freggi orizzontali sul cofano richiamano la seconda generazione. I proiettori rotondi con le frecce separate richiamano la prima generazione. La griglia con 5 elementi verticali e un mix tra la seconda e la terza generazione. 3. Dettagli funzionali. La linea di cintura, grazie allo scalino nella parte frontale dei finissini anteriori, espande la visibilità laterale nella zona cruciale del passaruota anteriore, assicurando pieno controllo nelle manovre in fuoristrada. E la calarina sul tetto evita lo sgocciolamento quando si apre lo sportello. Inoltre i vetri sono perfettamente verticali per impedire accumuli di neve. 4. Ruota di scorta. Anche sulla nuova Jimi c'è una ruota di scorta di dimensione standard sul portellone posteriore. 5. Comandi a prova di professionista. I comandi sono grandi per poter essere utilizzati con guanti spessi di lavoro. Inoltre il maniglione sulla plancia è un comodo supporto per il passeggero, sia nelle fasi concitate di guida in fuoristrada che nel salire e scendere dalla vettura. 6. Sempre in bolla. La plancia, a sviluppo orizzontale, aiuta il pirota a riconoscere l'inclinazione del veicolo rispetto al piano dell'orizzonte. 7. Carattere da fuoristrada. Il telaio Longheroni assicura robustezza torsionale e un'ampia escursione delle sospensioni. Gli angoli per la guida in fuoristrada sono 37 gradi quello di attacco, 28 gradi quello di dosso e 49 quello di uscita. Questi sono sinonimo di elevata agilità e motricità nella guida in fuoristrada. 8. Una trazione che non ti aspetti. Il Jimi è una vettura a trazione posteriore con trazione anteriore inseribile fino a 60 km orari. Inoltre è presente un riduttore, dove però per inserirlo occorre fermare il veicolo. 9. Agile anche in città. Le dimensioni ridotte permettono una perfetta percezione degli spazi e il posizionamento longitudinale del motore assicura un raggio di sterzata ridotto. Parcheggiare il Jimi è facilissimo. 10. Capacità di carico. L'adozione di un doppio ponte rigido, quindi anche all'anteriore, offre vantaggi in termini di trazione in quanto quando una gomma viene sollevata da un dosso, l'altra, solidamente collegata dal ponte rigido, verrà spinta verso il terreno aumentando nella trazione. Inoltre il doppio ponte rigido offre un ulteriore beneficio. È l'unico sistema di sospensioni che non cambia l'altezza minima da terra anche quando la vettura è a pieno carico. 11. Fun fact. Il Jimi è sceso in campo con una squadra di Serie A e ha fatto anche gol. E se vuoi restare aggiornato su tutte le news del mondo Suzuki, ricordati di iscriverti al canale Suzuki.